Alessandro Ricci, segretario generale della Società Geografica Italiana, che quest'anno compie 150 anni. Dove, come, perché è nata la Società Geografica Italiana? La Società Geografica Italiana nasce il 12 maggio del 1867 nell'allora capitale Firenze. Poi si trasferirà a Roma col trasferimento della capitale e sorge con l'obiettivo prioritario di estendere le conoscenze geografiche dell'Italia e del mondo. Da allora coincidevano le conoscenze con i viaggi di avventura, di esplorazione. Adesso la Società Geografica concentra la propria attività in ricerche, in studi, in analisi e in attività culturali che vengono svolte pressoché quotidianamente a favore delle istituzioni e della cittadinanza. Tra le diverse attività di apertura della Società Geografica mi preme ricordare l'iniziativa Adotta un documento per i 150 anni di questa istituzione. L'iniziativa Adotta un documento ha lo scopo principale di restaurare i documenti che custodiamo e di associare poi il restauro al nome di chi adotta per l'appunto il documento. Vediamo qui alle nostre spalle un grande tavolo dove la dottoressa Patrizia Pampana ha raccolto alcuni dei documenti più interessanti e preziosi che poi saranno in mostra per il certo 50 anni della Società Geografica Italiana. Il più antico di questi documenti qual è? Sì, si tratta di questo portolano del 1480, prima quindi della scoperta dell'America, nel quale Albino De Canepa descrive il Mediterraneo rappresentando dettagliatamente le coste e sicuramente compiendo degli errori di proporzioni sulle dimensioni delle nazioni che descrive. Tra questi documenti ce ne sono alcuni particolarmente suggestivi, come uno piccolissimo qui che adesso la dottoressa ci spiega. Il viaggio da Venezia a Costantinopoli di Giuseppe Rosaccio, che rappresenta il passaggio dal portolano, che abbiamo visto in questo caso, e l'isolario. Si tratta di un libro di narrazione di viaggio, in cui compaiono iconografie e descrizioni dettagliate del viaggio compiuto. È inserita nell'epidome cosmografica di Vincenzo Coronelli. Ecco, ecco, ecco. Abbiamo fatto curiosità. Sì, sì, no, certo. Poi ci sono dei libri preziosi, come questo libro sacro birmano con la copertina dorata, molti documenti dell'Estremo Oriente, soprattutto Cina e Giappone, con delle particolarità. Si tratta della descrizione del corso di fiumi, come in questo caso i tre fiumi importanti della Cina, il fiume Giallo, il Canale Imperiale e lo Yansè, oppure il corso del fiume Tamagawa in Giappone. La particolarità di questa cartografia è la centralità della vita quotidiana, come in questi due casi, in cui vengono descritte delle attività svolte quotidianamente, in particolare da una minoranza etnica cinese e, in questo caso, un libro giapponese che descrive le attività quotidiane, come la pesca e gli abiti. Grazie.